Massimiliano Federiga, in merito agli immigrati, che cosa ha detto Mastra Pasqua? Ha fatto presente che dovrebbero essere fatti maggiori accordi bilaterali quei paesi di origine dei migrati per riconoscere la pensione anche nel caso in cui queste persone tornassero in quello stesso paese. Noi riteniamo che in questo momento di difficoltà economica bisognerebbe pensare magari prima a tutte quelle donne che hanno versato contributi e non hanno raggiunto la sufficiente numero di anni per vedersi riconosciuta la previdenza e a queste persone non gli vengono nemmeno restituiti i soldi versati malgrado abbiano contribuito all'Inps. Bisognerebbe pensare al costo sociale che è anche l'immigrazione nel nostro paese che è sicuramente superiore rispetto alla quantità di contributi versati dagli stessi immigrati e bisognerebbe rimettere un principio sano di precedenza dei cittadini del nostro paese che, bad bene, non è esclusività ma è precedenza. Noi su questo ci batteremo, riteniamo che il sistema previdenziale con la misura Fornero votata da PDL, PD e Monti sia dannoso per i nostri cittadini e riteniamo che le risorse a disposizione, se ce ne sono, devono essere impiegate in primo luogo per andare a sanare quelle ingiustizie invece di pensare sempre agli ultimi arrivati. Grazie.